Ciao! Oggi torniamo in Spagna per vedere la terza maglia del Barcellona per la stagione 22-23, la maglia in versione player, la maglia di Lewandowski. La terza maglia da calcio Nike Barcellona 2022-23 ha un design straordinario, combina un colore di base grigio chiaro con una croce blaugrana sul davanti. Il colore ufficiale della terza maglia Nike Barcellona 22-23 è descritto come grigio cielo e ha suscitato alcune preoccupazioni nei tifosi in quanto è molto simile al bianco, il colore del Real Madrid. Tuttavia il Barcellona aveva già avuto una maglia da trasferta d'argento molto simile tra il 1998 e il 2001. La croce al centro rappresenta la croce di San Giorgio, che fa parte dello stemma del club. Pantaloncini e calzettone grigio cielo completano il look della terza maglia del Barcellona firmata Nike. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa si colloca sicuramente al top e per il momento prende 4 stelle. Ero molto indeciso, ma ho deciso di fermarmi a 4. Una maglia fatta sicuramente molto bene, il costo, lo vedete qui sopra, bassissimo. La trama è stupenda di questa maglia, questo contrasto blu e rosso veramente molto bello. E poi la maglia di Lewandowski è una maglia da mettere nel proprio armadio. Qualità ottima, tempi di spedizione molto veloci. Vi ricordo che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.